Volevo velocissimamente ricordare che il 7 novembre una commissione di appassionati e studiosi porterà al commissario per la pesca una richiesta di regolamentazione per quanto riguarda la pesca degli squali mediterraneo quindi se volete andare a dare un'occhiata sul sito medsharks.org lì potrete anche voi sottoscrivere questa petizione è importante essere in tanti perché più si è più queste cose vengono ricevute bravo Marco, assolutamente